E rieccoci ancora in studio per scoprire il lato umano dello sport attraverso le storie dei nostri campioni. Musica e sport, un connubio fantastico, meraviglioso, non soltanto per le emozioni che crea, perché ogni evento sportivo è accompagnato dalla sua colonna sonora, ogni sportivo ci ha raccontato della propria colonna sonora e tantissimi, tantissimi cantautori hanno scritto brani dedicati proprio agli sportivi e allo sport. Degli esempi ve li voglio fare perché insomma ci tengo, Enrico Ruggeri, Gimondi e il cannibale, ma poi l'abbiamo sentito anche nella puntata di Beccalossi con il suo brano, e poi Lucio Dalla, Ayrton, Gino Paoli, Coppi, Paolo Conte, Bartali, insomma ce ne sono tantissimi che hanno dedicato canzoni a grandi campioni. Se su questa poltrona ci fosse stato il grande Gabriele Oriali ci avrebbe probabilmente indicato questo brano. Una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Lì, sempre lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché cenai, stai lì, stai lì. Sempre lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché cenai, finché cenai, stai lì. La Mimisara Band che vi presento ad uno ad uno, prima di goderci quelli che sono stati i momenti calienti di My Music e le emozioni che abbiamo respirato grazie ai nostri grandi campioni dello sport. Al basso Alessio Alla chitarra Matteo Raffaele alla batteria Luigi alla tastiera E la splendida Nicole, la voce della Mimisara Band Vivo come se, vivo come se, vivo come se, fosse possibile Avere il cielo come punto di partenza Non come limite, non come limite Vivo come se, vivo come se, vivo come se, fosse possibile Avere il cielo come punto di partenza, non come limite, non come limite Vivo come se, vivo come se, bravissima la nostra Nicola hai sentito, vivo come se, cosa dice questa canzone per te? Cosa racconta il tuo cuore? Questa canzone inizia con dal mondo ha preso una verità, la forza di volontà ha più peso della forza di gravità, quindi devo dire che è già una frase che è stupenda Certo, quindi se vuoi puoi, non importa le difficoltà, i tempi così, ma se ti ci metti con anima e corpo Otterrai il risultato Come può uno scoglio Arginare il mare Anche se non voglio Torno già a volare Le distese azzurre Le distese azzurre E le verdi terre Le distese ardite E le risalite Su nel cielo aperto E poi giù il deserto E poi ancora in alto Con un grande salto Wow, pelle d'oca, pelle d'oca Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi Grande Battisti Sì, questo l'ho scelto per due motivi È un brano particolare che mi ha seguito quando ero ragazzino, soprattutto quando ero a casa, quindi mi ricorda la mia famiglia, il mio vivere a casa giù a Mesagne E il secondo motivo è perché effettivamente non ci sono ostacoli insormontabili Qualsiasi cosa uno voglia fare, se lo fa con la testa e con il cuore, arriva lontano Io sono quello da guardare quando ho voglia di giocare Sono schiavo dell'artista che c'è in me Datemi il pallone, non parlate poi, correte ad abbracciarmi Io sono l'ultimo egoista perché sono un fantasista Faccio quello che vorreste fare voi Quello che vorreste fare Non poteva mancare questo brano, non poteva mancare il fantasista Enrico Ruggeri La scritta per te, questo brano scritto per te Sì, le notti passate insieme dopo i concerti che scappavo dai ritiri per poter seguire i suoi concerti E nascevano tutte queste confidenze Quali sono le frasi di questa canzone che ti colpiscono più? Perché sono molto belle L'artista che c'è in me, l'allenamento fatelo voi Io andavo preso così come ero E poi io faccio quello che vorreste fare voi Nel senso che ho la fortuna di fare quello che voglio Nel bene e nel male Senti, quando hai ascoltato per la prima volta questo brano che ti aveva dedicato? Ebbè, è stata forte perché solo tu riesci a inquadrare i momenti Perché poi tra l'altro noi parlando anche di altri grandissimi campioni Quindi c'era George Best che è stato un giocatore straordinario Meroni del grande Torino Quindi tutta questa categoria di fantasisti E poi lui ha preso proprio a cuore il mio attesamento, il mio comportamento E quindi ha trovato delle parole e dei testi secondo me eccezionali Perché quando l'ho sentita la prima volta sono capottato Si può dire capottato Certo, si può dire capottato Complimenti perché io ne ho sempre pensate Non sono mai riuscito a dire solo tu sei riuscito a mettermi Bellissima, bellissima Bisogna dire la verità Nessuno dice la verità Ho una gran voglia di vivere Desiderare e decidere Mi hanno rubato la libertà E a pochi metri la libertà Sono il tuo centro è un equivoco Fate riuscire Liberatemi Liberatemi Le mie mani devono parlare Liberatemi Liberatemi Biagio Antonacci Beh, un brano che io amo molto Ma come tutti quelli che contengono la parola libertà Perché questo brano? Cosa ti ricorda? Ma guarda Con Biagio mi lega un'amicizia profonda Non ti sto a raccontare come è nata E tutto perché sarebbe lunghissima Solo che mi ricordo di questa cosa Che eravamo a Milano Che eravamo in macchina assieme C'erano ancora le musica sette Lui aveva questo brano ancora in prova Tra l'altro di musica ce ne capisco poco Sono proprio anche stonato Però lui mise questa canzone nella macchina E a tutto volume E poi alla fine mi disse Mantonello, che ne sembra? Io ho detto No, è grandissima E poi alla fine l'hai usata come preparazione Le tue preparazioni atletiche la usavi Mi hanno detto No, no, è vero, è vero Perché sai Poi il momento Prima della gara Sono sempre momenti particolari Ognuno ha il suo modo di caricarsi Chi legge, chi ascolta musica Ma questo ci sta bene Questo è vero Mi dava una grande carica È vero Selli cammina per la strada leggera Ormai sì Si accendono le luci dei lampioni Tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni Ed un pensiero lo passa per la testa Forse la vita Forse la vita non è stata tutta persa Forse qualcosa si è salvato Forse non è stato poi tutto sbagliato Forse era giusto Forse ma forse ma sì Forse ma forse ma sì Perché lo trovo veramente diretto Libero E molto profondo Anche nella sua semplicità E questa canzone Me la porto da quando ero piccolina Mi piace ovviamente Moltissimo il ritornello È tutto un equilibrio Sopra la follia La sento un pochettino Sai In quei momenti Nei quali stai camminando Su un filo Sei in punta di piedi Sei un po' in bilico Però comunque Riesci comunque a vedere Il bello delle cose Selli è qua Noi vorremmo mettere testa e cuore In tutto ciò che facciamo Non sempre possibile O almeno non come lo fabbrico Per il nostro partner I nostri campioni Hanno avuto spesso difficoltà Se scegliere tra le immagini Che ci hanno proposto Testa o cuore Perché effettivamente Non è così semplice Allora mi sono chiesta Se avessimo avuto un grande Come Mike Tyson Seduto proprio qui Sulla nostra poltrona E avessimo mostrato lui Questa immagine Secondo voi Uno aggressivo come lui Uno proprio che Caspita Io avrei paura di incontrare Forse anche per strada Cosa avrebbe risposto? Beh Io credo cuore E lo sapete perché? Perché lui ha un amore Grandissimo per i piccioni Quando era bambino Ne allevava sui tetti di Brooklyn E un bullo Uccise uno dei suoi piccioni E insomma da lì Il primo pugno a questo bullo E la sua passione Ebbe inizio Quindi vedete come nascono Dalle storie anche più comuni Testo o cuore? Era la finale di lei Se le credo Era Testo o cuore? Cuore, cuore Cuore Nonostante tutto cuore Nonostante tutto cuore Beh un cuore rimane anche Per quello che è successo Quindi se Qui cuore tutta la vita qua Cioè qui appunto È la festa che ti hanno organizzato Esatto Al tuo paese Quando sei rientrato Esatto Considera fede che Il mio paese Appunto questa frazione Nella torre Nel comune di Fucecchio Fa circa novecento abitanti Ed erano i settecento Qua erano i settecento Quindi era Insomma sono venute un po' Tante persone Un po' da tutta Italia E È stata veramente un'emozione bellissima Quella sera E Infatti ringrazio ancora a tutti Perché Penso che si potrà Vivere tanto questa cosa Inevitabilmente cuore Esatto Qua stai facendo il DJ Sì beh qui ci vuole Cuore Ci vuole testa o cuore Cuore e nel mio caso Anche un po' di follia Cuore e follia Avremo testa cuore o follia È cuore No cuore 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 Io vengo impropriamente Nei siti Vicino al mio nome Accostato Con Due Vocali Che sono DJ Ma io Sì leggiamo da qualche parte Serse DJ Ecco appunto Siccome ci tengo So quelli che sono i DJ So quale professionalità hanno Qual è il loro percorso E qual è soprattutto La loro statura Ho usato il termine impromio Perché Non è giusto È vero che io Tra le passioni che ho È quella di divertirmi In una console Diciamo super tecnologica Insomma potrei veramente suonare Anche a 10 km di distanza Perché ho tutto in eccesso Come strumenti tecnici Però ecco a me piace ascoltare la musica La musica di tutti i generi Però ovviamente alla console Mi diverto con la house Che diciamo così È una passione che è nata 15 anni fa E ogni anno diventa sempre più Più forte Nel senso che poi vado sempre oltre Quindi ho iniziato con una house Molto leggera E adesso ci stai prendendo In alcuni casi Anche facendo riferimento Agli anni 70 Quindi la baglia degli angeli Io nasco E vai una volta in trasmissione A metterci qualcosa Vogliamo sentire E oggi sono Sono oltre Infatti anche io Tanto è vero che L'ho già detto altre volte In altri momenti Insomma credo di essere L'unico padre Dove il figlio Viene giù dal primo piano E dice papà basta Non ce la faccio Di solito È il contrario Di solito capita il contrario Testa o cuore? Cuore Decisamente Perché Perché l'ho vissuto Ho vissuto tutta la sua carriera Perché l'ho conosciuto Quando lui era a Bari E quindi ho sempre seguito lui Quindi quando parlo di Non posso definirmi tifosa In realtà io sono Tifosa sua Di lui Di Gianluca Indipendente Indipendentemente Sì da qualsiasi squadra Da qualsiasi maglia Abbia vestito Silvio Berlusconi Lui ti voleva al Milan? No allora Questo è un altro discorso Allora diciamo Diciamo testa Perché è sicuramente È sicuramente Berlusconi Una persona Che ha fatto di tutto Per portarmi al Milan Poi però Dall'altra parte C'era uno Che doveva andare via E che ha fatto scoppiare Calciopoli Quindi è tutto Testa Testa di Berlusconi Un po' dell'altro Riusciamo a perdere Quindi Testa Diventa lupo Beh questa è un po' La mia La mia filosofia di vita E non è altro che Testa Tutta testa Assolutamente testa Assolutamente testa Sì Raccontiamo di Diventa lupo Perché è importante È importante perché Tu hai creato questo Profilo Twitter Ti seguono in moltissimi Così lo possono anche vedere Sanno dove trovarti Dove tu proprio Sproni a non mollare mai Proprio i ragazzi di oggi Sì Ci racconti? Beh credo che I ragazzi di oggi Ma in generale Nella vita Ci capitano tante cose Che non ci fanno Poi andare dritti Per la strada Che vorremmo intraprendere E spesso siamo Un po' troppo Fragilini In confronto a quello Che ci accade Diventa lupo Non è altro Che un Un incoraggiamento A dire che Devi decidere Devi essere tu padrone Della tua vita E quello è il motto Io e solo io deciderò Quando Molfetta sarà finito Nel senso Solo io posso essere Irresponsabile Di ciò che mi accade Eh qua Testa o cuore Pensaci bene Vabbè Cuore Perché Ho intossato La prima volta Che ho intossato La maglia dell'Inter L'ho dormito con quella Io perché Con la stessa Con cui avevi giocato Sì Fantastico Questa guarda È una gran bella cosa Perché mi guardavo Lo specchio Che fisicamente Non sono mai stato Quindi vedevo Come mi stava Cioè avendo giocato Alla sera Poi abbiamo mangiato E sono andato in camera Camera C'era ancora Con le camere Normali Diciamo con lo specchio Non adesso Le belle Suito Camera normale Con lo specchio E mi ricordo Che ho messo sulla maglia Volevo vedere come stavo Se stava meglio fuori Dentro Come ti vedevi? Era pesante Pesante Nel senso Che c'era la maglia Dell'Inter Quindi me la devo coccolare Me la devo tenere E l'ho tenuto Che viene dato Solo a coloro Che vincono il campionato Professionistico Io gli dissi Sai che eravamo Nello stesso quintetto Figurati Lui ha vissuto Dopo tante Altre vittorie E manifestazioni Così importanti Che non ho capito Se si ricordava Di quella cosa No Però fu gentile Che restammo Qualche Qualche minuto Assieme Valerio E la nazionale Testa O cuore Prima di tutto È una È una di quelle Parentesi Per me Bellissime Che sarebbe Andata avanti Per Credo Tanto tempo Che però Mi ha interrotto Uno degli altri sogni Nonostante Avessi raggiunto L'obiettivo Però L'ulteriore sogno Era andare ai mondiali E purtroppo Mi sono rotto il crociato Cinque mesi prima E quindi La sfortuna Ha voluto Che io non ci andassi Per cui Per cui Direi cuore Ma con una coltellata Dentro È un po' Sassolino Che ho nella scarpa Che però Non potrò mai più Togliermi Ma è stato comunque Un ulteriore Suggello Alla mia carriera Sì E a proposito Di campioni Quest'oggi Ne abbiamo uno Qui proprio con noi E lo accogliamo Con un bel applauso Giovanni Il nostro Giovanni Giovanni Spannu Ciao Ciao Accomodati Giovanni Spannu Beh Giovanni Lo diciamo Sei campione italiano Pro di K1 E non soltanto Sei anche vice campione mondiale Sempre di K1 Dilettanti E sei secondo classificato Per l'Octagon In Italia In questo momento Quindi Grazie per essere con noi Grazie a voi Brevemente Cosa pensi di questa storia Di Tyson e dei piccioni? Penso sia una storia Molto Molto bella E profonda Perché Dietro al colosso Di Mike Tyson C'è comunque una persona Profonda Con un cuore E dei sentimenti Senti Tu invece Com'è iniziato La tua passione? Lui Attraverso il pugno Per un piccione Tu? Allora Io fin da piccolino Ho praticato Le arti marziali Iniziato col Judo E mio papà Era appassionato Gli arti marziali Dopo il Judo Ho fatto qualche anno Di calcio Ho perso Il mio papà All'età di 14 anni E niente Poi Sono stato fermo Qualche anno E poi Diciamo Per dare onore a lui Ho intrapreso Questa carriera Di kickboxer Senti Il tuo papà È un ricordo Che tu Non soltanto Hai sempre nel cuore E nella testa Ma porti anche sempre Qualche cosa di lui Negli incontri Raccontaci Allora Io Come porta fortuna Porto sempre Un ciondolino Una colladina Che ho Con la sua foto E la do sempre Al mio maestro Da dire Tieni l'all'angolo Come porta fortuna Come sta andando La tua carriera Che incontri Ti aspetteranno Prossimamente La mia carriera Nel 2018 Cosa ti aspetta Allora Nel 2018 Sicuramente Abbiamo In preventivo In progetto Di arrivare A Octagon Bellator Attualmente Sono secondo Nelle classifiche E niente Un evento Veramente importante Un evento più importante Al mondo Puntiamo sempre Sempre al meglio Grazie Giovanni E in questa edizione Caro Giovanni Di cose dette fatte Ce ne sono state tante Tu come sei messo Con le mani Il fai da te Molto bene Mi fa piacere Allora Andiamo a scoprire Chi è stato Il primo classificato Tra tutti i campioni Che hanno partecipato A Tra il dire E il fare Ed eccoci per scoprire Chi è il primo classificato Del nostro gioco Tra il dire E il fare Questa novità Di questa edizione Di solo Chi c'ha fede Offerto da Black & Decker E da Bricofer Chi vincerà Si porterà a casa Questo splendido Kit natalizio Con trapano Avvitatore E tutti gli accessori Che vi servono Per fare al meglio Il fai da te In casa Bene I nostri super campioni Olimpionici Non soltanto Li avete visti In queste puntate Sono armati Di trapano E avvitatore Per fare in 60 secondi Il maggior numero Di fori E avvitare Il maggior numero Di viti Chi è stato a vincere Guardiamo il nostro Wall Con la nostra classifica Allora Al terzo posto Abbiamo Un pari merito 8 fori E 8 viti Valentina Zambrotta E Antonello Riva Al secondo posto Un altro pari merito Ma questa volta 4 dei nostri atleti Sono classificati Con 9 fori E 9 viti Danilo Callegari Simone Butti Valerio Bertotto Igor Cassina Ma il premio principale A chi va Di questa seconda edizione Di solo chi c'ha fede Tra il dire e il fare Il primo classificato È Carlo Molfetta Eccolo qua Carlo con 11 fori E 11 viti Bene Dopo aver fatto Questa splendida scoperta E aver capito Che Carlo Molfetta Il nostro Taekwondo È stato il più forte E' stato il più forte di tutti Andiamo a salutarci Ed eccoci Ormai siamo in chiusura Di puntata E anche di questa Seconda edizione Di solo chi c'ha fede Un'edizione che ha visto Il lato umano Dello sport Particolarmente Tanta passione Tanto amore Tante emozioni Questo è quello che abbiamo Cercato di portare Nelle vostre case Siamo stati molto contenti Di avervi con noi Solo chi c'ha fede Parla proprio di questo Dell'animo Dell'animo dello sportivo Lasciamo la tecnicità A chi se ne intende E noi parliamo di cuore D'amore E di sentimenti Questo abbiamo fatto E non soltanto Grazie ai nostri campioni Olimpionici E non soltanto Ne abbiamo visti tantissimi Prima di salutarvi Voglio fare dei ringraziamenti Che sono per me doverosi E mi sento assolutamente Di farlo E voglio tanto ringraziare Tutti coloro Che non vedete Che sono dietro le telecamere Che sono nella regia Che sono al trucco E al parrucco Tutta la mia redazione Greta in particolare Perché l'ho veramente Massacrata In tutti i sensi E poi Alessandro Vitale Federico Maffioli Dirk Von Roy Li vorrei nominare tutti Riccardo Piovesana Alessandra Rizzo Gli operatori fantastici Tecnici Insomma davvero Davvero tutti Spero di non dimenticare nessuno Perché sono tutti nel mio cuore Siamo una grande squadra E questa è proprio La squadra Di solo chi ci ha fede Vi aspettiamo Con una nuova edizione Con nuove puntate Tantissime sorprese Vi auguriamo Uno splendido 2018 Grazie anche Alla nostra Mimisarabenda Tutti i loro componenti All'associazione Minuetto Che ci ha veramente Supportato e appoggiato Grazie a Sport Italia Michele Criscitiello Che ci permette Di essere sempre qui Con grande entusiasmo Grazie a Luca Noto Grazie veramente A tutti voi Che ci avete seguito E siete stati molto numerosi Sempre carichi Noi continuiamo tramite i social E ci rivediamo prestissimo Con tante sorprese Tante novità E ancora tantissimi ospiti Nuovissimi per voi Grazie per essere stati con noi A presto 3,2,1,1,1,1 Ora, teniamo l'esperienza. Vai, vai, Luca, vai! Donne, donne, donna. No, no, così ne va. 13. Passate. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. 8, 7. Vai, ciccio, vai, ciccio. Fai un nay! Fai un nay! No, 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 no! No, 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 no!